Il commando è entrato in azione tra la folla, torna alle 11, in via Caio Duilio, nel quartiere fuori grotta a Napoli. Chi ha sparato l'ha fatto per uccidere, incurante delle decine di persone presenti in strada per gli ultimi acquisti, a poche ore dalla vigilia di Natale. I killer avevano un obiettivo e sbagliare, non era tra le opzioni. Davanti alla caffetteria Troncone, all'altezza del civico 47, c'era il boss Vitale Troncone. L'azione di fuoco è stata rapida, il 53enne è stato raggiunto dalle pallottole alle gambe e al volto. Le condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasportato all'ospedale San Paolo, trasferito poi nelle prime ore del pomeriggio all'ospedale del mare, nel quartiere Ponticelli. Un agguato, secondo gli inquirenti, che riattizza nuovamente il fuoco sotto al calderone della faida orologeria che si combatte nell'area flegrea da alcuni anni. Tanti gruppi storici e di nuova formazione a spartirsi una torta milionaria che comprende il controllo dello spaccio di droga e il racket delle estorsioni. L'ultimo campanello d'allarme era suonato con l'omicidio di Andrea Merolla, trentenne sovrannominato il turco e nipote proprio di Troncone. E tutto riconduce a un altro omicidio, quello dello scorso 15 marzo, quando un altro comando di killer entrò in azione nella zona del cosiddetto Serpentone, in via Leopardi, sempre quartiere fuori grotta, uccidendo il 78enne Antonio Volpe. L'uomo fu ammazzato a pochi passi dalla sua tabaccheria e non era un commerciante qualunque. Per gli inquirenti era l'ago della bilancia che manteneva l'equilibrio malavitoso.